Verranno sbloccati i fondi previsti dal bando periferie destinati ai comuni ammessi al finanziamento, fondi che verranno spalmati in più annualità. Questo è l'accordo sancito tra l'Anci e il Governo nazionale. Si tratta di un passo rilevante che permetterà l'accesso a 1 miliardo e 600 milioni complessivi per tutti i comuni beneficiari, ha detto il deputato regionale di Forza Italia Tommaso Calderone, che in prima persona si è battuto per sbloccare i fondi. Pienamente soddisfatto il sindaco di Caltanissetta Giovanni Ruvolo che ha commentato così Ha vinto la città, amministrazione e cittadini insieme. Sono salvi finanziamenti per 9 milioni di euro per la riqualificazione urbana e la rigenerazione sociale del quartiere Santa Barbara, che saranno utilizzabili in due anni. Un ringraziamento per il sostegno alle istanze della città, conclude il sindaco Ruvolo, va ai residenti del quartiere Santa Barbara, ai sindacati e al Consiglio Comunale.